Musica Buia a tutti ragazzi, sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati qua come negli ultimi giorni ormai per parlarvi dell'ultima lettura carattere manga che ho fatto diciamo in questa ultima settimana anche oggi come ieri per quanto riguarda il video dedicato a Junjito sono qua per farvi il focus on di un primo volume di una nuova serie che ho iniziato ed è un primo volume che devo dire la verità mi è piaciuto più di quello che pensavo potesse fare quando l'ho comprato come avrete letto dal titolo qua sotto sono qua per parlarvi di Moriarty The Patriot basato sui racconti di Sherlock Holmes di Serato Conan Doyle con lo storyboard di Yosuke Takahuchi e i disegni di Icaro Miyoshi questo volume qua edito da Panini dalla Planet appunto per il prezzo di 4,50€ edizione standard come tutte le normalissime edizioni da edicola infatti questo primo volume a differenza del solito l'ho preso in edicola perché l'ho trovato lì era una serie che avevo addocchiato dopo averla vista sull'anteprima e ho detto ma si dai proviamo, prendiamola e vediamo com'è mi ha stupita come avrete anche capito un po' dal sottotitolo che caratterizza questo primo volume quello che stiamo davanti è un manga dedicato alla figura di James Moriarty il acerrimo nemico di Sherlock Holmes spesso si parla tanto di Sherlock Holmes ma molto spesso quello che affascina di più almeno che a me affascina tantissimo e affascinato tantissimo nella serie tv di Sherlock è proprio il personaggio di Moriarty io sono sempre molto attirata da quelli che sono normalmente gli antagonisti e Moriarty, nonostante non abbia mai letto i libri di Sherlock Holmes e dovrò rimediare sicuramente prima o poi è un personaggio che mi ha sempre molto incuriosita molto affascinata e per questo motivo ero rimasta comunque molto colpita dall'uscita di questa serie che volevo provare e meno male che l'ho fatto Kuku Moriarty, questo è il suo titolo originale esce in Giappone a partire dal 2016 per conto della Shuesha è uno shonen, ovviamente che attualmente conta come all'attivo sei volumi è ancora in corso e in teoria in questi ultimi giorni dovrebbe uscire il secondo qua in Italia come ho detto è un volume che mi è piaciuto molto innanzitutto perché mi è piaciuto il modo in cui racconta quella che è la storia di Moriarty infatti all'interno di questo volume o comunque di questa serie in generale quello che vediamo sono le avventure e la storia che caratterizza effettivamente il personaggio di James Moriarty a partire dalla sua infanzia il suo essere accolto ed essere adottato all'interno della famiglia nobile della famiglia appunto Moriarty e tutto quello che comunque lo caratterizzerà e come è diventato il consulente del crimine che noi tutti comunque conosciamo lo vedremo crescere e soprattutto lo vedremo svilupparsi all'interno di una società comunque di quel periodo in cui le minoranze, i più sfortunati venivano sempre guardate dall'alto al basso da parte di quelli che erano i nobili ed è un dettaglio che risalta tantissimo all'interno di questo primo volume che mi è piaciuto molto perché ha dato una visione assolutamente verichiera di quella che era la società che si poteva trovare in quel periodo quindi in un modo o nell'altro comunque va anche a toccare dettagli che risaltano la perfezione a carattere sociale e storico di un'Inghilterra proprio che davvero è esistita che davvero è stata inserendoci dentro dei personaggi comunque letterari che si amalgamano a perfezione con quello che comunque li circonda in generale e anche le situazioni che andiamo a leggere sono assolutamente comunque ben descritte ben delineate aiutate ovviamente anche dai disegni che già da questa copertina si potrà evincere sono disegni davvero molto belli molto in linea con quello che è il tratto amato dalle ragazzine attualmente è un tratto che fa molto lo stile della Yana Toboso in Kuro Shizuji in Black Butler nel mio punto di vista il personaggio di Moriarty assomiglia davvero tantissimo a Sebastian anche solo vedendolo dalla copertina e questo devo ammettere essere un altro punto che mi ha fatto dire la voglio provare perché a me il tratto della Yana Toboso piace moltissimo e anche quello si sviluppa all'interno comunque di una Londra comunque vittoriana ed è un tratto che mi piace molto per storie di questo genere questo genere mystery comunque anche un po' crime e devo dire la verità anche qua si è sposato alla perfezione ed è sicuramente stato un punto in più un punto a suo favore nel farmelo piacere comunque forse anche più di quello che mi aspettavo ma secondo me la cosa più bella di questo volume che mi ha convinto ancora di più a continuare questa serie è proprio tutto quello che vi ho detto prima come viene raccontato il tutto tutti gli elementi che circondano la storia e anche la caratterizzazione dei personaggi che devo dire la verità mi sono piaciuti dal primo all'ultimo a partire dal personaggio di Moriarty passando anche per quelli che sono i suoi fratelli tutta la società comunque inglese di quel periodo che li circonda ma anche tutte le persone che incontreranno lungo il loro cammino si amalgano per bene con quello che sono loro e le situazioni che si vanno a creare poi anche tutte le varie storie e vicende che troviamo all'interno di questo primo volume mi hanno conquistate e mi sono piaciute quindi voglio assolutamente continuarlo leggere il secondo volume e vedere come si svilupperà e come continuerà perché mi è davvero piaciuto tanto e se siete amanti comunque innanzitutto del personaggio di Moriarty della serie di Sherlock Holmes o vi piacciono comunque storie caratteri crime un po' misteri che si sviluppano all'interno di una società comunque effettivamente reale per quello che comunque narrano nonostante i fatti narrati siano ovviamente fittizi io ve lo consiglio perché vi piacerà vi intratterrà ed è sicuramente una bella lettura da fare anche per questo periodo e ragazzi il video è terminato fatemi sapere qua sotto se voi avete iniziato questa serie come l'avete trovata qual è il vostro personaggio fra Sherlock e Moriarty e in generale appunto se vi ho anche incuriosito come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like a iscrivervi nel caso così non vogliate perdervi i prossimi video e qua sotto trovate tutti i link utili ai miei social e anche ad Amazon per qualche informazione in più del volume stesso noi ci vediamo prossimamente sul canale con nuovi video vi mando un bacione grandissimo vi aspetto dal primo dicembre con gli spicci mas e alla prossima ciao ciao ciao